Swyte ti permette di monitorare il traffico del tuo sito. Ti faccio vedere come fare. Una volta avvenuto l'accesso al pannello di gestione del sito, dal menu in alto clicca su Marketing, poi sulla scheda Statistiche. Questa sezione ti consente di visualizzare i dati suddivisi per Visite. Riporta il totale delle visite ricevute. Modifiche. Mostra il totale delle modifiche eseguite dall'amministratore. Condivisioni. Visualizza il totale delle condivisioni eseguite dall'amministratore. Aggiornamenti. Riporta il numero totale degli aggiornamenti eseguiti e importati sul sito. Tutte le voci. Mostra il totale di tutte le attività. Per abilitare o disabilitare ogni filtro è sufficiente cliccare sulle singole voci. Inoltre, dall'apposito menu a tendina collocato in alto, puoi visualizzare i risultati dell'ultima settimana, dell'ultimo mese, degli ultimi sei mesi o da sempre.